Perché non mi hai detto che sei uscito? Non ne ero sicuro. Mi racconti sempre stronzate. Devi avere pazienza, Siguana. Per essere qualcuno nella misa, devi avere pazienza. A me non piace quello che è diventata la misa. Lo so, ma ora sono tornato e le cose cambieranno. La misa è dentro di te. Non puoi scappare da quello che sei. E tu non mi chiedi dove sono stata io? Io la pazienza la conosco. Me lo direi tu quando vorrai. Mi fido di te. Andiamo a festeggiare.